ciao ragazze ciao ragazzi giveaway questa volta il video si tratterà di un giveaway perché siamo arrivati a 800 iscritti un buon traguardo un bel traguardo per me e devo ringraziare solo voi quindi per ringraziarvi ho deciso di fare questo video poi allora vi dico prima le regole mi raccomando seguitele perché io controllerò se avrete seguito le regole e parto subito a dirvele dovete essere iscritti al canale appunto dovete mettere mi piace al video dovete condividere il video in modo che il video giri un po dovete essere residenti in italia dovete scrivere solo un commento di senso sensato e io lo approverò con il mio pollice all'insù dovete iscrivervi alla mia pagina di facebook che vi metto giù il link come anche quello del mio blog lo stesso vi scrivo comunque tutte le regole sotto nell'info box detto ciò vi dico anche la scadenza del giveaway che sarà il venerdì 3 luglio così dopo un po di tempo per appunto fa partecipare quanto più persone possibile allora partiamo con i premi ecco tutti qui allora il mio giveaway comprende questa palettina di make up di ombretti della beauty collection questi con i toni del rosa del borgogna spero che si possa vedere con il suo applicatore e questo il suo è il primo premio per voi poi una matita occhi sempre per quanto riguarda la marca beauty collection ed è nera qui con il suo bel spumino questa qui poi un gloss per le labbra di questo bellissimo colore sempre della beauty collection questo qui bellissimo ed è un bel rosa per lato poi infine il premio questo qui che è un portachiave di cartisa come potete ben vedere ma che cosa di particolare che all'interno c'è un bellissimo specchietto molto utile per portarselo indietro porta il catenaccio per le chiavi e questo fiocchettino eccolo qui e questo è il quarto premio ovviamente vi aggiungerò dei campioncini monodose monodose quelli nelle bustine tipo le creme profumi queste cose qui e quelli li vedrete quando vi arriverà il pacco e spero che i regali vi piacciano mi raccomando seguite le regole e che dire la vincitrice ovviamente sarà una sola che verrà estratta sul pc ovviamente dal pc e che altro mi do un in bocca al lupo a tutte mi raccomando seguite le regole perché io vado a controllarvi e che dirvi ragazze vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazze e grazie a tutte